La seconda ondata è uno tsunami ad Arezzo da 2,6 contagi per mille abitanti, si è passati a 15,5. Le parole sono del direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durso, rilasciate ad ADN Kronos all'evento inaugurale del Festival della Salute a Siena. Quello che è sbagliato a sostenere, ha spiegato Durso, è che la diffusione del virus oggi è simile a quella di marzo scorso. È molto peggio. I dati del 12 novembre ci dicono qualcosa di sconvolgente. Se da marzo a luglio i casi registrati sono stati 1.400, nei successivi tre mesi sono diventati oltre 8.000. Il tasso di contagio della popolazione nei primi mesi era di 2,4 per mille abitanti ad Arezzo, ora è 15,5. Dell'1,87 a Grosseto, ora è 6,39. Dell'1,65 a Siena, ora siamo a 8,06. Nel frattempo, ha sottolineato Durso, l'attività di tracciamento è in pieno svolgimento, così come l'effettuazione dei test tampone. Nei primi sei mesi ne venivano fatti mille al giorno nelle tre province che fanno parte dell'ASL. Oggi Arezzo ne fa 1.700, a Siena 1.200, a Grosseto 1.000. È comunque una sensazione netta che sia davvero una corsa contro il tempo ad armi impari. Sul fronte del tracciamento, dove anche qui c'erano stati forti ritardi, in questo momento la centrale ad Arezzo Fiere tratta ormai 1.700 casi alla settimana e l'ASL punta su 69 assunzioni. Allora, c'è stato un momento in cui, prima che partisse questa grande centrale, in cui effettivamente si sono avuti degli accumuli di ritardo. Perché il personale fa il possibile, chiaramente, però è quello che è. Nel momento in cui è partita la centrale operativa, stiamo recuperando rapidamente il pregresso, mentre i casi attuali vengono gestiti nell'immediato, sia l'isolamento del caso, sia l'isolamento dei contatti. Quindi viene fatto tutto in giornata o giorno successivo. Quando pensa che ci sia un allineamento rispetto al pregresso? Io penso nel giro di un giorno o due.